Sara Bonura, Gela possiede tre gioielli, il cartodomo di Contratazai, il palalivatino e anche il parco di Montelungo. In più di un'occasione anche la sezione locale di Fratelli d'Italia ha sottolineato che sono in un stato di abbandono. Ora voi come megafono presentate una mozione al fine di intervenire, perché questi gioielli bisogna valorizzarli e non lasciarli all'abbandono. Io con la dottoressa Pingo abbiamo presentato questa mozione in consiglio comunale affinché l'amministrazione provveda, facendo relativi solleciti alla provincia, di innanzitutto pulire questi siti perché sono in totale abbandono e oltre questo c'è la presenza anche di amianto. Pertanto ci stiamo mobilitando affinché venga presa in considerazione. Dunque in questo caso dovrebbe intervenire il libero consorzio di Caltanissetta? Sì, dovrebbe intervenire il libero consorzio di Caltanissetta perché effettivamente è di loro proprietà. Ma come si fa a lasciare all'abbandono tre gioielli come li abbiamo definiti? Ce lo chiediamo anche noi perché effettivamente queste strutture sono state riconosciute anche a livello nazionale e sono state fatte delle gare anche di gogart che hanno portato tanta gente a Gela e tanti turisti, se vogliamo chiamarli così. E quindi dovrebbero essere attenzionati in modo particolare se veramente vogliamo che Gela abbia una rinascita. Una proposta potrebbe essere quella di farla gestire da alcune situazioni presenti sul territorio? Certo, qualsiasi iniziativa utile per riprendere queste strutture e valorizzarle è ben accetta.